Seppero in seguito che c'era stato effettivamente un incendio nella prateria, così violento che a poco erano servite le piste tagliafuoco, perché il vento strappava le fiamme e le portava oltre il punto dove l'erba stava bruciando. C'erano luoghi dove l'incendio aveva fatto un salto, lasciando un tratto di prateria in tonso, perché le fiamme erano state spinte oltre e quel poco che era rimasto a bruciare si era spento da sé, come si spegne una candela quando ci si soffia sopra. Erano bruciate case, fienili, che pure avevano grandi spazi di rispetto intorno ed erano morti parecchi animali. Nei dintorni, quando era scoppiata quella bufera di vento, un colono aveva lasciato il carro nuovo pieno di sementi in mezzo a un campo arato e quando era tornato del carro con le sementi non erano rimaste che le parti metalliche, era bruciato tutto, benché l'erba più vicina fosse ad almeno cento passi di distanza. Non si poteva fermare un incendio del genere né combattere contro un vento simile. Il fuoco aveva attraversato la regione lasciandosi una scia di prateria bruciata alle spalle finché era arrivato al fiume. Poi il vento era calato e là l'incendio si era fermato a 150 miglia da dove era partito. Fu necessario riseminare perché il vento aveva soffiato via i semi o li aveva sepolti sotto cumuli di terra e di polvere lungo il perimetro dei campi arati. Melli dovette comprare frumento e avena da seme al silo in paese e finalmente riuscì a finire il lavoro. Poi vennero tosate le pecore e la vendita della lana li tirò tutti su di morale. La lana valeva 25 centesimi a libra e la resa era stata di 10 libra in media a capo. Ogni pecora si era ripagata con un margine di 50 centesimi ciascuna. Entro alla fine di maggio nacquero tutti gli agnelli. I parti gemellari furono tanti da far più che raddoppiare il grege. Fu un periodo di lavoro intensissimo, notte e giorno perché le pecore avevano bisogno di assistenza e gli agnelli andavano accuditi. Tra tutte le pecore ve ne furono solo cinque che non vollero o non riuscirono a nutrire i piccoli e quei cinque agnellini furono portati in casa tenuti al caldo e nutriti con il biberon finché furono svezzati. Rose passava la giornata a giocare in cortile e Laura cercava di tenerla d'occhio seguendo le corsette traballanti della sua cuffietta rosa. Una volta arrivò giusto in tempo per vederla riemergere annaspando dalla vasca piena d'acqua che stava sotto il beccuccio della pompa. Con l'acqua che le gocciolava dalla faccia e dalle dita delle mani piagnucolò voglio andare a dormire. Un pomeriggio l'aveva appena lavata e pettinata e le aveva messo un vestitino pulito quando la sentì strillare di divertimento in cortile. Affacciandosi sulla soglia la vide uscire dal granaio di corsa. Oh 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 le gridò Rose. Barnum ha fatto così e buttandosi a terra nella polvere e sventolando in aria braccia e gambe si rotolò di qua e di là. Una scena così buffa che Laura non poteva far a meno di scoppiare a ridere anche se ora Rose era da lavare e cambiare di nuovo. Un'altra volta non vedendola in cortile Laura spaventata corse a guardare nella stalla. Barnum era là steso sulla paglia nel suo box e Rose gli si era seduta sopra e gli dava gran calci nella pancia con le sue gambette. Piano piano come per non muovere il resto del corpo Barnum alzò la testa e la guardò e Laura fu certa che le aveva fatto l'occhiolino. Da quel momento cercò di non perdere mai di vista la piccola ma non aveva cuore di tenerla chiusa in casa in quelle giornate di primavera così fresche e allegre. Sicché sbrigava le faccende correndo continuamente alla porta o alla finestra a guardar fuori. Un'altra volta arrivò giusto in tempo per vedere Rose scampare a un incidente per un pelo. doveva essere andata un po' più lontano del solito perché Laura la vide sbucare dall'angolo del fienile. Un istante dopo arrivò di volata dietro allo stesso angolo Kelpie, l'ultimo puledro di Trixie, seguita da Susan, l'altra puledrina. Kelpie vide Rose troppo tardi per fermarsi o deviare da un'altra parte e allora con uno scatto improvviso le passò sopra in volo. Saltò anche Susan per dimostrare, come faceva sempre, che riusciva a fare tutto quello che faceva Kelpie e anche lei passò sopra Rose ma questa volta di misura. Laura arrivò di corsa col cuore in gola, afferrò la bambina e la portò in casa. Rose non si era praticamente accorta di nulla ma Laura si era spaventata a morte e si sentì male. Come poteva fare tutto e badare a tutto? C'erano sempre mille cose a cui tener dietro e lei era sola. Oh come detestava la fattoria, le bestie, gli agnelli puzzolenti, come detestava cucinare, lavare i piatti, sì, sì detestava tutto di quella vita e in particolare i debiti che andavano pagati, che lei riuscisse a lavorare o no. Ma a Rose non era successo nulla e ora era lì tutta allegra a chiedere un biberon per dar da mangiare a un agnellino. Bene anche lei avrebbe fatto così, si disse Laura, non si sarebbe lasciata a battere, non sarebbe stata lì a piangere. Come diceva uno dei personaggi della storia che stava leggendo qualche giorno prima, la ruota gira, gira e la mosca che si trova in alto dopo un po' si troverà in basso. A lei a dire il vero di quella mosca non importava un bel nulla, avrebbe solo voluto che la mosca che stava in basso riuscisse a salire un pochino più su. Era stanca di aspettare che la ruota girasse. Quelli che stavano in basso erano gli agricoltori, che che ne dicesse Melli. Se il tempo non era buono non restava loro niente in mano. Ma che restasse loro qualcosa o no, dovevano trovare di che pagare gli interessi e le tasse e il tornaconto dei mercanti e bottegai del paese su tutto quello che comperavano. E comperare dovevano per forza se volevano campare. Ora c'era quel foglio in banca che Melli aveva dovuto firmare per avere di che comprare le sementi da riseminare dopo la bufera di vento. Ci pagava il 3% al mese di interessi su quella somma. Ecco dove sarebbe finito il guadagno della lana. Nessuno poteva sostenere interessi simili a lungo. Ma loro dovevano tirare avanti ancora tutta l'estate, prima che fosse pronto il raccolto. Le girava la testa a furia di fare conti. Averbero avuto i soldi necessari. La loro parte di guadagno della lana faceva 125 dollari. E il debito in banca quant'era? Uno staio di frumento da seme ad acro a un dollaro allo staio faceva 100 dollari. 60 acri di avena e due staia di sementi ad acro facevano 60 staia. A 42 centesimi lo staio erano 50 dollari e 40 centesimi. Aggiunti ai 100 per il frumento erano 150 dollari e 40 centesimi. Perché doveva esserci sempre tanta differenza nel prezzo delle granaglie, a seconda se loro vendevano o compravano? Sì, come diceva Melli c'erano i costi del trasporto avanti e indietro e quelli del silo, ma non sembrava giusto lo stesso. In ogni caso dovevano saldare il debito con la banca appena possibile. Poi magari potevano comprare un libretto di tagliandi per la drogheria contro una cambiale al 2% al mese. Per fortuna i bottegai avevano quei libretti da 25 o 50 dollari con tagliandi di diverso valore, da 25 a 5 dollari. Erano comodi e ci si pagavano sopra interessi più bassi. Loro non li avevano ancora mai usati e lei aveva sempre sperato di non dovervi ricorrere mai. Era una ferita al suo orgoglio, più di un debito con la banca. Ma non si poteva mettere l'orgoglio sul piatto della bilancia contro un risparmio dell'1% e comunque basta, non voleva pensarci più. Melli avrebbe deciso come meglio credeva. Erano cose che riguardavano lui e lui non era preoccupato. Non appena la primavera cedete all'estate cessarono le piogge e il grano cominciò a soffrire la siccità. Tutte le mattine Melli spiava il cielo ansiosamente sperando che piovesse, ma non pioveva mai e lui andava a lavorare nei campi. Poi venne il vento caldo da sud. Soffiava ogni giorno senza posa e Laura se lo sentiva addosso come il calore che usciva dal forno quando apriva lo sportello per guardare se il pane era cotto. Andò avanti così per una settimana. Quando il vento cessò le giovani pianticelle di frumento e di avena erano tutte morte. Erano moribondi anche gli alberi dei dieci acri piantati a bosco. Melli decise che non ce l'avrebbe fatta a ripiantarli e farli crescere quanto era necessario per riscattare la proprietà. Si avvicinava alla scadenza del contratto e lui non era riuscito a rispettarne i termini. C'era un solo modo per salvare il terreno, far valere il suo diritto di prelazione. Doveva però dimostrare di avere i requisiti e pagare allo Stato federale un dollaro e venticinque ad acro. I requisiti li aveva. Bisognava abitare sulla proprietà e loro ci abitavano. Difficile era trovare in capo a sei mesi duecento dollari in contanti necessari all'acquisto. Ma non c'era altra soluzione. Se Melli non esercitava quel suo diritto la proprietà sarebbe passata ad altri perché sarebbe tornata al governo che l'avrebbe rimessa in palio. Melli optò per quella soluzione. Un vantaggio c'era a quel punto non doveva più dannarsi per far crescere il bosco. Si limitò a curare e a nutrire col concime della stalla i pochi alberi sopravvissuti per far crescere almeno quelli. Il piopo davanti alla finestra della dispensa trovandosi sul lato nord della casa era stato parzialmente protetto dal vento torrido e nonostante la siccità cresceva discretamente. Laura amava quelle belle fronde verdi che vedeva stormire là fuori quando cucinava o lavava i piatti sul bancone sotto la finestra. Non piove neppure dopo quel periodo di vento torrido ma si vedevano spesso all'orizzonte formazioni nuvolose tipiche dei cicloni che però poi si dissolvevano erano condizioni favorevoli all'insorgere di trombe d'aria e uragani. Un giorno in cui Melli era in paese e Peter era a pascolare le pecore finite le faccende Laura e Rose uscirono in cortile. Il pomeriggio era singolarmente affoso e Rose si era messa a giocare sotto il pioppo sul lato piombroso della casa. Laura teneva ad occhio le nuvole più per forza di abitudine che per vero timore. Quelle condizioni duravano ormai da giorni. In mattinata aveva soffiato un forte vento caldo da sud che poi però era cessato. Intanto a nord si erano andate addensando nubi temporalesche. Si vedeva una compatta striscia nera all'orizzonte che spingeva avanti una gran massa di nuvole. A un tratto riprese il vento molto forte ancora da sud e Laura vide con spavento la temibile nube a imbuto uscire dal nero e puntare verso la terra. La luce aveva assunto una tonalità verdastra. Prese la bambina e si precipitò in casa. Chiuse porte e finestre poi andò a guardare fuori da quella della dispensa. La punta dell'imbuto era arrivata a terra. Si vedeva chiaramente la nuve di polvere che sollevava. Passò su un campo di sodato di fresco risucchiando strisce intere di zolle. Poi colpì un vecchio pagliaio. Ci fu un polverone e il pagliaio scomparve. L'imbuto veniva verso la casa. Laura ferrò rose, si infilò nella botola che portava in cantina e se la richiuse sulla testa. La sotto, accovacciata in un angolo al buio, con la bambina stretta al petto, tese le orecchie al rombo del vento aspettandosi che la casa volasse via da un momento all'altro. Invece non successe nulla. Le parve che fossero passate ore intere quando finalmente sentì la voce di Melli che la chiamava. In realtà erano passati pochi minuti. Sollevò lo sportello della botola e uscì con Rose in braccio. Trovò Melli in cortile accanto al carro. Si era fermato lì a guardare la tromba d'aria che passava a meno di un quarto di miglio a nord della casa. Sparirono case e covoni, ma non cade che qualche goccia di pioggia sulla terra assetata. Melli aveva visto la nuvola dal paese e si era precipitato a casa per non lasciarle sole. Non vi furono altre trombe d'aria, ma la siccità e il caldo non mollarono. Il 5 agosto fu una giornata torrida. Nel primo pomeriggio Melli mandò Peter a prendere la madre di Laura e alle 4 lo spedì in paese, questa volta a cavallo per fare prima a chiamare il medico. Ma il bambino, un maschietto, nacque prima che il dottore arrivasse. Laura era fiera di suo figlio, ma curiosamente sentiva un gran desiderio di avere Rose con sé. Perché lei potesse riposare, avevano fatto venire una ragazza che badasse alla bambina, ma era pur sempre un'estranea. Alla fine, dietro le sue insistenze, la ragazza portò dentro la piccola, tutta intimidita e con gli occhioni sgranati a conoscere il fratellino. Da quel momento Laura riuscì a riposare tranquillamente e tornò presto a interessarsi alla vita della casa, tendendo l'orecchio ai diversi rumori per capire che cosa stava succedendo. Un giorno Peter si affacciò sulla porta per darle il buongiorno. Si era infilato una lunga penna nel nastro del cappello. Ondeggiava in modo così buffo a ogni movimento della testa che Laura non pote trattenersi da ridere. Poco dopo lo sentì parlare con il cavallo e col cane e capì che stava per portare il greggio al pascolo. Cantava, oh che bella che è, com'è dolce il suo nome per me, non potrei non amarla. È lei la mia manna, la mia piccola, dolce, paffuta Gina Gianna Giovanna. E con ciò Peter e il greggio se ne andarono. Poi sentì Rose che giocava con gli agnellini. Ormai erano cresciuti tanto che i tre più grandi andavano al pascolo con il greggio. Ne erano rimasti due, i più piccoli, che gironzolavano ancora per il cortile e venivano ad affacciarsi alla porta quando avevano fame o volevano giocare. Spesso prendevano Rose a testate e lei rotolava in terra ma era tutto un gioco. Poi sentì la ragazza rifiutare a Rose un pezzo di pane e burro urlandole sgarbatamente contro. Era una cosa che Laura non sopportava. Gridò dal letto che la bambina fosse accontentata. Sapeva che doveva riprendersi in fretta, ritrovare le forze. Non voleva che Rose fosse bistrattata da quella ragazza. Dovevano darle cinque dollari la settimana ed erano soldi che sarebbe stato meglio risparmiare perché presto avrebbero avuto una cambiale in scadenza. Tre settimane dopo, quando Laura aveva ormai ripreso la vita normale, il bambino cadde preda di convulsioni e morì. Tutto così rapido che non ebbero il tempo di chiamare il medico. I giorni che seguirono furono per Laura pietosamente confusi. Provava un dolore ottuso e non desiderava altro che dormire, dormire e non pensare. Invece doveva lavorare. Era l'epoca della fienagione, doveva far da mangiare per Melli, Peter e il ragazzo che avevano assunto temporaneamente per badare al greggio. C'era Rose da acudire e mille piccole incombenze domestiche da svolgere. Il fieno era poco perché la stagione era stata tanto secca che perfino le robuste erbe palustri erano cresciute a stento. Ma a loro ne serviva più dell'anno prima perché avevano più pecore, più cavalli e più vacche da nutrire, sicché bisognava andare a prenderlo anche molto lontano. La settimana dopo Melli e Peter cominciarono a falciare in un posto a due miglia di distanza. Un giorno Laura andò ad accendere la stufa in cucina per preparare il pranzo. D'estate usavano come combustibile vecchi rimasugli di fieno di palude fatto con le erbe alte e dure che crescevano negli acquitrini. Melli ne aveva portata dentro una gran bracciata e l'aveva lasciata lì sul pavimento accanto alla stufa. Laura mise il bollitore sul fuoco e andò di là chiudendo la porta. Quando tornò in cucina, pochi minuti dopo la stanza era in fiamme, bruciavano soffitto e pavimento e tutto il mucchio di fieno accanto alla stufa. Anche quel giorno, come al solito, soffiava un forte vento caldo a sud. Quando arrivarono i vicini per dare una mano, la casa intera era in fiamme. Anche Melli e Peter avevano visto il fumo dell'incendio e si erano precipitati a casa. Laura aveva cercato di spegnere il fieno buttandogli sopra una secchiata d'acqua. Poi, sapendo di non avere la forza per azionare la pompa dell'acqua, aveva preso la scatola dei documenti in camera da letto, aveva afferrato Rose per mano ed era corsa fuori. Sulla strada davanti a casa. Si era accasciata a terra ed era rimasta là, con la testa tra le ginocchia singhiozzando disperata. E continuava a ripetere, che mi dirà ora Melli? Oh, che dirà Melli? E là Melli le aveva trovate, lei e Rose. Era arrivato un istante prima che crollasse il tetto. I vicini avevano fatto quello che avevano potuto, ma l'incendio era così violento che non erano neppure entrati in casa. Solo il signor Sceldon era riuscito a infilarsi nella dispensa dalla finestra e a buttare fuori i piatti e qualche altro oggetto. Fu così che si salvarono, chiuse nel loro involto di panno, le posate d'argento del matrimonio. Non sopravvisse nient'altro. A parte la cassetta dei documenti, tre piattini del servizio che avevano comperato il primo Natale, qualche indumento da lavoro e il piatto ovale di vetro con le spighe al centro e la scritta Daci oggi il nostro pane quotidiano. Il piopo restò là, accanto al buco vuoto della cantina, nero e bruciacchiato. Morto. Dopo l'incendio, Laura andò qualche giorno dai suoi genitori con Rose. Le si erano bruciati i capelli sulla testa e aveva problemi di vista. Il medico disse che il calore le aveva offeso il nervo ottico, per questo dovette restare un po' a riposo. Ma alla fine della settimana Melly venne a prenderla. Il signor Sceldon, che viveva da solo con il fratello, aveva bisogno di qualcuno che gli tenesse la casa e aveva offerto a Laura e Melly di trasferirsi da lui, in cambio di un aiuto nelle faccende domestiche. Così Laura si trovò con tanto da fare per tenere dietro a quattro uomini e a Rose da non avere il tempo di angosciarsi. Nel frattempo Melly e Peter finirono di raccogliere il fieno e poi costruirono una baracca di tre stanze vicino alle rovine della vecchia casa. Le pareti erano fatte di semplici tavole di legno, rivestite all'esterno di carta catramata, ma erano ben finite, con tutte le commessure chiuse e a dovere, e siccome era nuova la casa risultò abbastanza facile da scaldare e confortevole. Quando ci si trasferirono era settembre avanzato e le notti cominciavano ad essere fresche. Il 25 agosto era passato da un pezzo, ma nessuno ci aveva fatto caso. E allora? Potevano dire di avercela fatta con l'agricoltura? Beh, dipende da come la guardi, disse Melly quando Laura glielo chiese. Sì, avevano avuto molta sfortuna, ma la sfortuna potevano averla tutti, non solo gli agricoltori. C'erano stati tanti anni di seguito di siccità che non poteva continuare così. La prossima sarebbe stata senz'altro una buona annata. La stalla era cresciuta parecchio, i due puledri grandi sarebbero stati pronti da vendere in primavera, arrivava tanta gente nuova, non sarebbero certo mancati gli acquirenti. Nel frattempo sarebbero nati altri puledri e poi avevano due manzi da vendere subito. Erano gran belle bestie, avrebbero spuntato di certo 12 o 13 dollari l'uno. E c'erano le pecore. Ne avevano il doppio dell'anno prima, oltre a diversi agnelli e alle sei pecore vecchie che erano da vendere anche quelle. La casa nuova l'avevano costruita in economia, così almeno avevano una parte dei soldi necessari a riscattare la proprietà col diritto di prelazione. Forse la risposta erano le pecore. Le cose cominceranno a girare, vedrai, perché tutto prima o poi va in pari, disse Melli uscendo per andare alla stalla. Sì, pensò Laura, seguendolo con lo sguardo dalla finestra. Sì, tutto è andato in pari. Il ricco ha il ghiaccio d'estate e il povero ce l'ha d'inverno. Il nostro, infatti, sta per arrivare. L'inverno era alle porte e loro erano lì, a un passo dalle rovine della loro confortevole casetta, a ricominciare da capo, dal nulla. Quello che avevano pareggiava i debiti, seppure bastava. Se trovavano i 200 dollari per riscattare la proprietà, la terra almeno sarebbe diventata loro e Melli era convinto di riuscirci. Era dura vincere la battaglia con l'agricoltura, ma stranamente Laura si sentì rinascere dentro uno spirito combattivo. L'incurabile ottimismo del contadino, che tutte le primavere semina i campi, scommettendo il suo lavoro e il suo tempo contro gli elementi, si era fuso inestricabilmente con il credo dei pionieri da cui discendeva. Quella loro perenne convinzione che più in là è meglio. Solo che quel più in là, invece di riferirsi allo spazio, si riferiva al tempo e non si trovava più oltre il lontano orizzonte dell'Ovest, ma oltre l'orizzonte degli anni. Lei era ancora una figlia di pionieri e capiva l'amore di Melli per la terra perché lo provava anche lei. Oh beh, sospirò, condensando i suoi pensieri in una frase che diceva sempre sua madre. Saremo sempre contadini perché quello che sta nelle radici viene fuori nei rami. Poi sorrise perché aveva sentito Melli tornare dalla stalla cantando. Delle miniere d'Australia si fa un gran parlare, ma loro è anche qui nella terra. Restate, ragazzi, che basta arare. Fine.